L'Orella Cuccarini la notte vola, questo era il Crystal History delle 8 qui con noi su Good Morning Milano sempre in diretta su Crystal Radio 96.2 FM, da Blasi Milano News sul web anzi, 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 il nostro prossimo ospite potreste anche vederlo appunto su Milano News ebbene sì, diamo il benvenuto, forse per la prima volta anche svela il suo volto, adesso glielo chiederemo ah, Velocipiedi, buongiorno Velo buongiorno, ciao, ciao prima volta che mostra il suo volto, ecco voi Velocipiedi che scopriamo essere quindi anche giovanissimo il volto non tradisce, con la voce si poteva pensare di, anche se era facilmente comprensibile che sei molto giovane, il volto non lascia adito a dubbi, per noi lo sai Velocipiedi, per noi sei velo cioè ormai abbiamo deciso che mai sei così, torni a ritrovarci, torni a ritrovarci perché? perché stai facendo parlare di te, o meglio, stai facendo molto molto parlare, tanti giornali l'ha parlato tutti praticamente, di una bella idea e proposta che hai avuto, che si chiama REC, giusto? esatto, è una proposta che attualmente sto sviluppando insieme a dei miei amici con cui gestisco la pagina l'idea è quella di proporre una rete ciclabile per la città di Milano, per il territorio comunale di Milano per andare a completare, diciamo, la rete che è già prevista della città metropolitana quindi la città più estesa di Milano e quindi l'obiettivo è quello di incentivare più persone ad usare la bici come mezzo di trasporto l'idea della REC appunto è quella di andare, prima di tutto, ad unire anche punti che ci sono già di ciclabili che però poi finiscono nel nulla e quindi ci basterebbe completarle per creare delle vere e proprie linee ecco, perché l'idea della REC è appunto che ci sono proprio delle stotte di linee come fosse quasi una linea di metropolitana e una rete ferroviaria cioè proprio ci sono delle linee che vanno a dividere la città cioè proprio a collegare le varie zone poi verso l'esterno o verso l'interno, giusto? Esatto, abbiamo ricalcato principalmente le linee di metropolitana e di tram più importanti perché riteniamo importante che ci sia una copertura dei principali assi strevali della città perché è anche lì dove ci saranno più ciclisti per conseguenza e è anche un aspetto, diciamo, identitario perché i milanesi in generale conoscono le metropolitane e spesso si orientano in città grazie alla metropolitana quindi spostandosi in bici lungo lo stesso tracciato delle metropolitane diventa un po' intuitivo è conosciuto intanto, le persone conoscono il percorso Sono nove linee più tre circolari, mi sembra, ho letto male? o sono ancora di più? No, dieci Dieci, scusa, dieci Dieci linee più tre circolari tra prendersi, con una soluzione del genere riusciremmo a fare quello che a Milano non avremmo mai avuto che è la linea, la circle line vera e propria che perché effettivamente pensare di farla solo di metropolitana o solo di treno si potrebbe pensare di farla di bicicletta cioè nel senso il concetto è quello, no? Dove hai trovato lo spunto per questa idea, per la REC? In generale guardando ad altre città d'Europa in particolare Parigi che conosco abbastanza bene appunto l'idea è letteralmente la stessa di Parigi perché a Parigi hanno fatto tutto sul tracciato delle metropolitane l'idea comunque generale viene dai paesi bassi e in generale dai paesi di Nord Europa che hanno capito che il modo migliore per incentivare le persone ad usare la bici è creare una rete continua, sicura che permetta di raggiungere i principali punti di interesse di una città e quindi che permette di spostarsi in città in modo sicuro, in modo facile, conveniente perché è tutta una questione anche di delle qualità delle piste ciclabili stesse e della continuità di queste ecco perché tu su questa cosa spesso arrivai a toccare il tema cioè il problema non è fare una pista ciclabile è fare le piste ciclabili collegate tra di loro cioè i tratti, non devono essere i tratti che ti lasciano nel vuoto ma devono essere collegati è questo quindi che limita la mobilità ciclabile in questo momento nella nostra città? Sì, principalmente è questo in particolare alle intersezioni che è il luogo dove avvengono la più parte di incidenti spesso si vedono piste ciclabili interrompersi prima e poi riprendere dopo lasciando completamente sprovvissi di protezione i ciclisti e questo ovviamente frena innanzitutto i ciclisti ad usare la bici ma frena appunto anche altre persone esterne ad usare la bici quindi non giova a nessuno questa situazione e appunto noi dobbiamo risolvere questi punti più percolosi chiaro, chiaro, chiaro anche se poi dopo bisogna stare attenti alle varie polemiche sterili che nascono intorno agli incroci tipo Monforte ricordiamo dove la gente ha tirato su una polemica tutta inutile sulle strisce per terra sì, no, rosse, no, tratteggiate, sembra il Tetris insomma, un po' di tutto Velo, rimani con noi andiamo con un po' di musica e poi torniamo perché voglio capire soprattutto se ti aspettavi tutto questo successo e tutta questa chiacchiera intorno al tuo progetto perché davvero ne sta parlando chiunque quindi voglio capire se ti aspettavi tutto questo e anche capire quando è iniziata questa tua fantasia che ormai è diventata un po' più reale è sempre un sogno, non ho quanto capito però comunque è un po' più reale quindi insomma, molto interessante tra poco ancora qui con Velocipiedi adesso andiamo invece con Calcutta con Paracetamolo e questo è Calcutta con Paracetamolo alle 8 e un quarto di oggi lunedì 19, scusate 29 aprile non 19, 29 aprile siamo a fine mese e stiamo parlando con Velocipiedi in collegamento con noi appunto dopo la sua idea proposta della REC che ha insomma fatto tanto tanta notizia te lo aspettavi Velo tutto questo chiacchierare intorno alla tua idea della REC che non abbiamo detto essere la rete ciclabile espressa così l'hai chiamata, giusto? Sì, esatto beh, mi aspettavo un bel po' di chiacchiericcio perché in particolare diciamo questi temi sono spesso molto polarizzati molto polemici perché c'era gente che faceva polemica sul fatto che questa rete di piste ciclabili andrebbe a togliere spazio alle macchine che andrebbe a creare più inquinamento che insomma diverse teorie varie di quello che potrebbe avere come conseguenze Scusa Velo, qual è la teoria dietro il quale una rete di piste ciclabili porta più inquinamento? Com'è che funziona questa cosa? Com'è che è stato detto? No, ma non credo sia... Ah, ok, cioè le trovano tutte pur di smontare l'idea ok, perfetto ok, chiaro, volevo capire qual era l'idea che c'era dietro appunto ne hai parlato tanto ma soprattutto tu a delle polemiche hai risposto anche con dei render molto interessanti perché hai dimostrato come in realtà è fattibile in certe situazioni, no? Esatto, cioè innanzitutto vorrei chiarificare che tutta la rete fa parte del PUMS che è il piano urbano della mobilità sostenibile e quindi sono tutte opere che verranno realizzate prima o poi il punto è appunto questo prima o poi noi vogliamo spingere affinché sia sempre più prima che poi e vogliamo che il comune inizi già da ora nei prossimi mesi anni a progettare e realizzare queste piste ciclabili con delle soluzioni che chiamiamo tattiche vuol dire invece di spendere più soldi e più tempo a creare piste ciclabili in struttura con dei cantieri quindi che occupano molto tempo fare degli interventi come in corso Buenos Aires installando dei blocchi in pochi mesi e mettendo della pittura che comunque riescono ad essere sicuri e allo stesso tempo economici e appunto abbiamo fatto questo render su Via Farini che mostra come potrebbe svilupparsi una prima fase tattica e una seconda in struttura perché appunto l'idea è quella di fare prima una fase tattica poi si parte si passa alla fase strutturale cioè quella tattica serve anche per capire dove magari andare a migliorare le cose immagino giusto nel senso che poi spostarla un blocchetto di cemento lo sposti senza problemi con anche la linea colorata andare a scavare rifare mettere perché poi fai vedere anche ad esempio che potrebbe diventare anche un Via L'Alberato Via Farini hai fatto questa idea giusto? l'ho visto bene esatto e quindi in generale progettare in questo modo l'abbiamo preso un pochino da Parigi perché loro hanno sostanzialmente hanno costruito la loro rete dopo il covid certo c'era qualcosina costruito prima grazie appunto a delle ciclabili tattiche che poi hanno molto rapidamente convertito in struttura e dove l'hanno messa la macchina i parigini come è stata la questione parcheggi perché questa è un'altra delle questioni che ti tirano fuori spesso ma se metti a ciclarmi ti arrivi a posto per le auto allora innanzitutto Parigi aveva già meno parcheggi meno auto in generale che Milano questo è sicuro le macchine in generale le persone quando vedono che diminiscono i parcheggi alcune persone si arrabbieranno è ovvio perché dovranno camminare di più per esempio per parcheggiare la macchina più lontano altre persone invece inizieranno a questionarsi se la macchina è utile quello che chiamiamo domanda indotta quando si aggiungono parcheggi nuove persone compreranno la macchina per parcheggiare in quei parcheggi invece si tolgono parcheggi anche se può sembrare illogico il numero di macchine diminuirà perché le persone inizieranno a venderla oppure a noleggiare su breve termine al posto di avere due macchine ne avrà una ci sono tantissimi modi per diminuire il numero di auto e togliere parcheggi purtroppo è quello meno più controverso però è anche purtroppo l'unica opzione perché lo spazio pubblico è spesso rubato da parcheggi e non c'è altro modo di fare infrastrutture ciclabili su questo tema spesso ci torni nel senso che tu dici mi sembra di aver letto anche se non sbaglio poi se mai correggimi nei tuoi vari post su velocipiedi anche che bisogna avere anche il coraggio a volte soprattutto chi è ministra a questa città di dire dobbiamo decidere cioè la strada se è veramente di tutti non può essere solo delle macchine quindi deve essere anche delle biciclette spesso vengono dire anche dei pedoni nel senso che bisogna anche fare il conto che ci si può muovere tranquillamente a piedi manca il coraggio a livello politico quindi per fare certe scelte sì assolutamente è proprio quello che manca perché se no credo che non avremo neanche bisogno di fare questo progetto di rete perché avrebbe già dovuto farlo al comune ma perché il problema in generale non è il problema dei tecnici che non riescono a fare piste ciclabili perché bisogna togliere parcheggi il problema proprio politico del fatto che non si vogliono togliere parcheggi ad esempio e quindi tutto il punto sta nel comunicare nel modo giusto alle persone gli impatti che potrebbe avere un'infrastruttura del genere e quindi convincere le persone è interessante che ci scrive Nello al 3317853555 che dice giustamente dice l'idea diffusa è che un traffico più statico ottiene per più tempo motori accesi quindi appunto poi diventa anche inquinante mentre l'idea reale della ciclabile è quella di incentivare l'uso della bici non è solo disincentivare l'uso della macchina o meglio dar fastidio alle macchine infatti dice ma oggi purtroppo viene ancora vista come un fastidio sia la ciclabile sia il ciclista effettivamente succede questo no Velo che l'idea della ciclabile è più fastidiosa che altro cioè non si vede a lungo termine mi sembra di capire sì di sicuro sì questo secondo me è in grande parte dovuto al poco numero di ciclisti che vediamo attualmente a Milano perché nelle città dove ci sono tanti ciclisti questi problemi diciamo non sono non sono così accentuati a Milano se costruisce una pista ciclabile subito andranno a gridare che è per 4 gatti e che nessuno le utilizzerà anzi si dice che la ciclabile poi crea più traffico in realtà perché appunto si stringono le strade cioè quello poi è la polemica che ne scaturisce spesso volentieri e il fatto che molto raramente è così cioè in alcuni casi può essere che le piste ciclabili sono proprio fatte male e quindi ci sono pochi ciclisti ma in molti esempi di fatto se costruisci le piste ciclabili costruisci le infrastrutture i ciclisti verranno il problema è sempre capire e riuscire a comunicare innanzitutto sui numeri di ciclisti che passano perché se la gente non si rende conto di come una pista ciclabile può aiutare il traffico a scorrere continuerà a criticarla per la vedrà come spazio buttato chiarissimo e così sarà finché non ci sarà una massa una massa critica che faccia capire davvero l'utilizzo delle piste ciclabili Velo rimani con noi ancora una canzone poi torniamo qui per salutarci darci anche tutti i collegamenti e tutti i tuoi link e tutti i tuoi profili social Coez la tua canzone Coez la tua canzone alle 8 e 26 minuti qui su Crystal Radio ancora con Velo Cipiedi Velo hai fatto così tanto parlare di te che a un certo punto adesso fra poco poi mi direi bene quando andrai a parlarne anche in comune giusto della REC cos'è che succede? esatto abbiamo avuto l'appoggio da parte di un consigliere Marco Mazzei che ci ha proposto di presentare la REC in commissione mobilità attiva e appunto non abbiamo ancora deciso la data però potrebbe essere una buona occasione per far conoscere il progetto all'interno del comune e riuscire a creare un dibattito perché noi non ci aspettiamo che il comune riprenda il progetto così come lo proponiamo perché ovviamente il comune ha i suoi tecnici ha i suoi modi di fare delle infrastrutture il nostro obiettivo è innanzitutto di appunto iniziare un dibattito e che il comune si decida di agire in fretta su questi fronti quindi di creare una rete ecco questa REC poi potrebbe avere degli sviluppi ulteriori o come la vedi cioè qual è l'idea a lungo te a lunghissimo termine della REC a lunghissimo termine ti direi anche quasi non avere più bisogno di una rete perché l'obiettivo finale è quello di avere una massa critica una massa di ciclisti abbastanza importante per appunto considerare questa come proprio un tipo di mobilità e quindi non avere più dibattiti sull'utilità delle piste ciclabili ma semplicemente realizzarle e che sia appunto qualcosa di sempre presente nelle nostre abitudini ripetere ciclisti un obiettivo su lunghissimo termine è quello ci sono anche altri obiettivi perché per esempio usare fare delle piste ciclabili può essere anche l'occasione di magari allargare i marciapiedi piantare degli alberi mettere delle coste preferenziali per mezzi pubblici può essere in generale un miglioramento della viabilità di tutta la città e anche della vivibilità quindi degli spazi per commerci e dei spazi a verde Velo ricordaci un po' come fare però a sapere di più sulla REC ma su tutto quello che fate perché davvero fate tantissime cose proponete sempre tantissime cose sui vostri profili social idee e spunti interessanti allora la REC è principalmente comunicata sul mio profilo Instagram che è Velocipiedi appunto su cui appunto faccio una serie di video proprio su questo tema e invece potete trovarmi anche magari alle manifestazioni se venite alle manifestazioni di strada per tutti di sai che puoi ad esempio o in generale potete sentire in giro perché appunto ci sono altri alcuni giornali che potrebbero intervistarmi ecco cosa interessante appunto è che sul tuo profilo si trovano a volte delle soluzioni foto render disegni insomma le inventate tutte per far capire che si può fare esatto siamo ora siamo proprio concentrati sull'aspetto comunicare far capire fare una campagna di confluggimento attualmente quindi è proprio quello il nostro obiettivo raggiungere le persone possibili chiarissimo chiarissimo Velo grazie mille allora alla prossima siamo contenti di essere insomma quelli che ogni tanto ci sentiamo qui la mattina per raccontare queste belle idee trappertutto poi ricordiamo che appunto tu sei giovanissimo poi è un gruppo di altri giovanissimi che ti stanno vicino e con cui fate disfate create no giusto sì sì esatto siamo tutti insieme in questa pagina anche se gestisco io loro mi aiutano beh dai allora anche speranza per queste famose Gen Z e sotto che insomma spesso ventieri vengono tanto bistrattate invece vedete che possono fare tanto anche con quel maledetto smartphone profili social così che magari noi boomer ogni tanto consideriamo il male assoluto invece facciamo vedere che insomma possono essere anche un ottimo strumento di diffusione di belle belle idee grazie velo buona giornata allora grazie mille grazie mille a te buona giornata e speriamo appunto di resti di presto con tante tante altre proposte e idee andiamo avanti con la musica grazie ancora a veloci piedi grazie per essere collegato con noi noi invece andiamo avanti con la musica andiamo avanti a raccontare un po' Milano tutto questo dopo una piccola pausa adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità ma poi torniamo sempre qui in diretta con Good Morning Milano come sempre Cristal Radio Milano si sente